In questo video vediamo come stampare tutte le fish della giornata, direttamente dall'agenda. Andiamo a cliccare su questo tasto qui in alto e ci comparirà la finestra con stampa fish di oggi. Andremo a cliccare su stampa fish di oggi e ci viene chiesto se vogliamo stampare tutte le fish del giorno corrente. Andremo a cliccare su sì e verranno stampate tutte quante.